Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video! Oggi vi faccio vedere un haul di cosa ho comprato da Zara! Iniziamo! Questo non ha prezzo, non mi ricordo, dopo vediamo lo scontrino. Sì. Mettilo da parte sul divano. Ok, questa qua che quando l'ho vista era super bella. Guardate le storie come ha abbinato questa felpa, Sofia. Questa l'abbiamo pagato 19,95. Sì. Fai questo giumottino! Io l'adoro. È un gilet un po' più pesante. Questo l'abbiamo pagato 25,95. Questo è bellissimo ragazzi, è tipo il mio preferito. Vediamo questo. Anche questo è carino. Questo l'abbiamo pagato 22,95. E incominciamo con la prossima busta. La seconda busta... Questo è con abitino. Abitino, è scritto abitino, ma può essere usato anche come un trench. È abbastanza pesante, non è proprio leggero. Tienilo da questa parte. Questo l'abbiamo pagato 29,95. Comunque con tutti i bottoni, proprio fatto benissimo. Tutto che è scelto è stato scelto solo da Sofia. Poi questa gonna. Vediamo quando si metterà Sofia una gonna. Seguiteci anche su TikTok, anche su Instagram. Spesso su Instagram mettiamo qualche foto di modella. Vediamo se questa gonelina lo metterà almeno una volta. Voi che pensate? Lo mette almeno una volta, vi aspetto su Instagram. E dietro ci sono le taschine. 17,95. Poi, una camicetta. Eccola. Ce l'ha anche sulla... Su questa parte... Mi fai vedere? Lo alzi? Questo modello. E questo l'abbiamo pagato 19,95. Questi sono proprio belli. Questi pantaloni. Nemmeno questi. Non mi viene a credere che li ha scelti perché lei odiava questi pantaloni. Proprio così, larghi giù. Non lo so com'è. Li ha scelti. Questi li abbiamo pagato 22,95. Ho voglia di provare. Ha voglia di tante novità. Beh, questi pantaloni qua azzurri, questa volta. Questi li abbiamo pagati 15,95. Ha solo 15,95. Questi non mi ricordavo nemmeno. E questi pantalonini. Questi sono per la scola, una tuta. Perché a Sofia piace stare leggera. Mi fai vedere il prezzo? Questi li abbiamo pagati 12,95. E basta. E questi sono gli acquisti di Sofia? Sì. Se vi è piaciuto questo video, lasciate un bel like. Iscrivetevi al canale. Attivate la campanella per non perdervi i prossimi video. Ciao! Sì. 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 Grazie a tutti.